Il problema da risolvere lo si risolverà domani, stasera io torno, come ho detto mi rivedo tutto articolo per articolo, domani portiamo in Consiglio dei Ministri. È sorto un dubbio tecnico, è sorto il dubbio sulla traduzione tecnica dell'accordo politico che abbiamo fatto. L'accordo politico è ben chiaro, se c'è un problema sulla traduzione tecnica che può capitare, addirittura, spesso, ma questo è una prassi anche in passato, si fa l'accordo politico e poi si rimanda dopo le traduzioni tecniche. Salvini non dice qualcosa di falso, nel corso del Consiglio dei Ministri è arrivata una prima traduzione normativa, perché questa norma è stata aggiunta all'ultimo in zona Cesarini perché è stato frutto della discussione proprio, tant'è che il Consiglio dei Ministri è stato un po' più tardi, perché abbiamo continuato a lavorare. Ricordate che noi dovevamo andare entro le 24, avevamo dei tempi stretti, quindi leggi di bilancio, decreto fiscale, abbiamo fatto un altro decreto, abbiamo lavorato come matti. Capita addirittura che se arrivi e senza un testo normativo, in questo caso il testo normativo, quindi la disposizione che lei sta menzionando e evocando, è arrivata in corso di Consiglio dei Ministri, quindi io mai ho riassunto sostanzialmente i termini politici, poi la traduzione tecnica, se avesse qualche incongruenza, un difetto di coordinamento, non rispecchia bene, si può sempre intervenire. In ogni caso addirittura io sto offrendo un Consiglio dei Ministri per dare maggior agio a tutti quanti i Ministri e di rivedere con calma il punto.